Roma cresce bene, abbiamo qui con noi Irene Ranaldi di Ottavo Colle. Avete vinto un premio, in cosa consiste e qual è il vostro progetto? Sì, il nostro progetto come Ottavo Colle è quello di favorire una conoscenza della città periferica e i percorsi turistici tradizionali. L'Ottavo Colle è il Colle che non c'è e anche i personaggi che sono poco raccontati. Ernesto Nathan è molto raccontato, naturalmente è stato un grande sindaco, ma non esistono ancora percorsi radiofonici. Noi nel premio proponiamo dei podcast di avvicinamento alla conoscenza della Roma di Ernesto Nathan, soprattutto nella zona di elezione della sua amministrazione, ovvero la zona Ostienza e Testaccio, dove appunto sorgono i mercati generali, la centrale Monte Martini, il primo quartiere operaio di Roma che è Testaccio. Quindi ci concentreremo su quella zona.